Pronti? Ciao amici di All4Shooters, siamo qui alla Laser Ammo, alla fiera EOS di Verona e ho qui con me Danilo che ci illustrerà quali sono i prodotti che sono qui esposti in fiera e lascio la parola a lui. Ciao ragazzi, innanzitutto benvenuti nel nostro stand. Laser Ammo che cos'è? Non è altro che un sistema di munizionamento laser che consente l'addestramento a casa, in piena sicurezza, per tutti i tiratori, di qualunque livello e di qualunque categoria. I nostri kit prevedono una munizione di base 9x19 adattabile a ogni tipo di calibro che può essere inserita sia su un'arma vera, quindi sull'arma personale, ma al contempo su repliche e ci consente di lavorare, come dicevo prima, in piena sicurezza. Oltre al munizionamento abbiamo dei dispositivi elettronici, come per esempio questo, che consente sostanzialmente di avere un riscontro oggettivo di quello che noi stiamo facendo, quindi tempistiche di reazione, tempistiche di estrazione, tempistiche di double tap, quindi tra il primo e il secondo colpo, quanto tempo può passare, e altre, altre, altre funzioni. Oltre a questo abbiamo dei bersagli interattivi che possono lavorare a numeri fino a 10-15 dispositivi che ci consentono di fare che cosa? Sempre in ambienti sicuri e sempre in piena sicurezza, ingaggi multipli e scenari sempre più realistici, sempre più concreti rispetto a quelle che sono le esigenze del singolo tiratore. Grazie.